Volete avvicinarvi al TCG di One Piece ma non conoscete le dinamiche che lo muovono? Desiderate utilizzare un leader che non richieda eccessivamente impegno nel ricordare meccaniche ad innesco che richiederebbero la vostra attenzione? Quale leader allora potrà soddisfare tale richiesta magari mettendo a disposizione anche una lista piuttosto facile da montare? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel meraviglioso mondo del TCG di One Piece diversi sono i protagonisti che dominano la scena partendo dai top tier Zoro, Barba, Ivan eccetera arrivando a Sanji, Kid, Croco e il Duffy che ancora in OP02 dicono la loro in modo chiaro e forte. Ma dove i protagonisti si godono le luci della ribalta chi opera dietro le quinte rimane oscurato da un sipario di riluttanza rendendo l'utilizzo di questi ultimi leader un fenomeno più unico che raro. A questa categoria appartiene il braccio destro di Kaido, King, che nella sua versione guida non ha fatto molto venendo oscurato dal suo capitano in primis in OP01 e poi da Magellan nel secondo atto del gioco. Ma dove molti guardano solo al lato puramente competitivo altri trovano dei punti validi anche in un qualcosa che all'apparenza possa sembrare inutile, valorizzando i punti forti apportati da una determinata carta creando un'opportunità di crescita che non solo riguarderà la community ma anche i centri ludici nazionali mettendo a disposizione dei giocatori un mazzo pronto all'uso che richiederà uno sforzo economico davvero irrisorio per riuscire a unire tutti gli elementi che comporranno questo deck. In questo video infatti scopriremo una lista abbastanza esotica di uno dei leader che, lo vedremo fra poco, cozzerà ma proprio leggermente con la caratteristica principale del viola, ovvero privarsi di Dawn sul terreno per innescare abilità e lo faremo attraverso una profile studiata appositamente per ridurre al minimo questo disagio potenziando il più possibile l'effetto passivo del leader. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo The King Viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader che con i suoi 5000 punti forza e 5 vite a supporto nel vostro turno se avrete 10 Dawn andrà a diminuire di ben 1000 punti il valore di potenza di tutti i character presenti sulla bordo avversaria. Calcolando che il Viola farà della privazione di questi ultimi la sua maggior risorsa potrà suonare controproducente ma andando avanti con profile vedremo ben presto come questo piccolo aspetto potrà essere non prevenuto ma limitato nel migliore dei modi. E allora procediamo addentrandoci nel primo compartimento che come in altre liste vedrai blocker farla da padrone. Le quattro coppie di igurashi ci daranno il benvenuto in questa profile. A costo 2 e 3000 punti di forza il membro della famiglia Kurozumi possiederà la sola parola chiave blocker a supporto. Questo personaggio come per i Trafalgar blu a costo 1, i Chopper e i Capone rappresenterà il primo scudo difensivo contro le offensive avversarie. Altro quartetto per Uta che a costo 4 possedendo 5000 punti di forza oltre alla sua abilità difensiva quando bloccherà privandovi di un singolo don vi permetterà di esaurire un caratter avversario con costo pari a 5 o inferiore. La cantante di certo vi tornerà utilissima per fermare all'occorrenza almeno un paio di attacchi nemici dato che bloccando il primo assalto vieterete ad un'altra fonte offensiva di arrecarvi qualche sorta di fastidio. Le ulteriori quadruplici presenze di Queen chiuderanno questo reparto blocker. Costo 5 e 6000 punti forza, la Superstar, oltre che a fermare gli attacchi rivali una volta che entrerà in gioco, vi permetterà attraverso la privazione di un singolo don di pescare due carte dalla cima del mazzo scartandone di seguito una dalla mano. Credo che Queen sia la carta onnipresente in qualsiasi lista viola o ibrida, dato che attraverso i suoi due effetti vi permetterà di erigere uno scudo difensivo atto a prevenire attacchi rivali e ciclare il mazzo alla ricerca di elementi utili per velocizzare la strategia dell'intero deck. A dir poco fondamentale. Quindi dopo aver visionato appieno il reparto che vi farà da scudo contro le offensive rivali durante un match, prendiamo in esame 4 carte che rappresenteranno per questa lista il motore di ricerca dell'intero deck. Buena Fiesta in 4 copie aprirà e chiuderà questo settore. A costo 1 con 0 in termini di potenza, quando entrerà in gioco vi permetterà di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, rivelandone una tra esse con tratto film da aggiungere alla mano, riposizionando le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. In più, oltre a ricercare eventuali Uta o Ain, la vedremo fra poco, ed altri personaggi fondamentali per la fase di attacco, possiederà un valore di più 2000 counter che all'occorrenza potrà servirvi nella fase difensiva se non ci saranno eventi a supporto in un determinato arco dell'incontro. Ora, come già accennato più volte durante il video, avrete bisogno di quanti più don possibili sul campo di battaglia nel minor tempo possibile e per realizzare ciò avrete bisogno di alcuni elementi fondamentali presenti nel prossimo reparto. Sasaki in triplice copia aprirà le danze. Costo 3 con a supporto 4000 punti potenza, quando attaccherà assegnandogli un singolo don, vi consentirà di scartare una carta dalla mano, permettendovi di seguito di aggiungere un don dalla sua pila dedicata in campo in stato di esaurito. Anche qui saranno presenti più 2000 counter che allo stesso modo di fiesta potranno servirvi in caso di offesa ricevuta. Ain, anch'essa presente in 4 copie, vi permetterà una volta scesa in campo di aggiungere un singolo don dalla sua pila dedicata in gioco in stato di esaurito. In più, possedendo 5000 punti forza, Costo 4 vi tornerà sicuramente utile nella manovra offensiva che vi vedrà protagonisti. Ci saranno poi altre tre fonti che vi aiuteranno allo scopo di accumulare donne in campo, le vedremo fra pochissimo, ma prima volgiamo l'attenzione verso l'artiglieria pesante che sarà necessaria per aprire un varco tra voi e le vite avversarie. X-Drake in quadruplice copia ci darà il benvenuto nel reparto offensivo. Costo 5 con 5000 punti di forza, il dinosauro costringerà l'avversario a scartare una carta dalla propria mano non appena metterà piede in gioco al costo di un singolo don riposizionato nella vostra pila dedicata. Possedendo inoltre un valore di counter, anche qui pari a 2000, andrà a formare un trist di character pronti per supportare al meglio la manovra difensiva del mazzo. Il quartetto di Guild Tesoro farà la sua comparsa sui tavoli da gioco. Con i suoi 6000 punti potenza a costo 5, quando attaccherà, privandovi di due don, vi permetterà di pescare due carte dalla cima del mazzo. Niente male come carta, soprattutto perché a differenza di un Mihawk Blue non vi costringerà in seguito a scartare due carte, richiedendo in questo caso solo due don per l'innesco dell'abilità, che a differenza di elementi mandati nella pila degli scarti, potranno tornare in gioco quanto più presto possibile grazie ai supporti inseriti nel deck. Shiki, anche in questo caso presente in quattro copie, non potrà essere distrutto in battaglia se possiederete otto o più don presenti in campo. Costo 6 e 7000 punti di forza, il leone dorato potrà diventare una spina nel fianco non da poco per l'avversario, ritrovandosi ad ogni turno una potenziale fonte di attacco perpetua che se non verrà spazzata via da qualche effetto, raramente potrà essere spenta. Il duo di Douglas Bullet farà tremare i tavoli da gioco. Costo 8 e ben 10.000 punti di forza, durante la vostra fase principale, una volta per turno privandovi di quattro don, vi consentirà di esaurire fino a due character avversari con costo pari a 6 o inferiore, ottenendo di seguito un pericolosissimo doppio attacco. Davvero molto forte, anche se non si è visto molto nelle liste viola in giro per il globo, ma in questa profile potrà finalmente dire la sua, soprattutto se è in combinazione con il prossimo personaggio. Con la bellezza di 10.000 punti di forza, il colosso, quando entrerà in campo, metterà KO, un personaggio con costo pari a 6 o inferiore, se vi priverete di 5 don, ottenendo in seguito un devastante rush che gli permetterà di attaccare subito dopo che lo avrete impiegato dalla mano. Devastante e terribilmente forte, il Kaido nazionale di sicuro metterà molta pressione alle difese rivali, in combinazione anche con l'appena visto Bullet. Bene, dopo aver concluso il reparto character, scopriamo cosa vi potrà tornare utile per salvaguardare la salute dei personaggi sotto il vostro controllo, attraverso una sezione event composta da ben sette elementi. Blast Breath, in quattro copie, aprirà questo settore. Spendendo un singolo don, privandomene di un secondo, in fase di counter aumenterete di ben 4.000 punti il valore di forza di un character o leader sotto il vostro controllo. Blast sarà uno degli elementi appartenenti a questa categoria più iconici del viola e che rappresenterà inoltre un ottimo compromesso a livello costo-beneficio. Thunder Bagua, in duplice copia, vi consentirà spendendo due don di aumentare anche qui di 4.000 punti la forza di un character o leader sotto il vostro controllo, andando ad aggiungere in campo inoltre un singolo don in stato di esaurito se possiederete due vite o meno. La presenza in più di un trigger riprenderà la seconda parte dell'effetto, escludendo la condizione di innesco, rappresentata dal numero di vite che avrete a disposizione, e lo stato del don stesso, che in questo caso sarà in stato di attivo. Bagua sarà la terza delle 5 fonti presenti nel deck che vi permetteranno di aggiungere don dalla pila dedicata in gioco, consentendovi quindi sia di proteggere dei personaggi alleati durante una battaglia, sia di velocizzare la strategia di gioco del mazzo, attivando il prima possibile il potere passivo del leader. Brachio Bomber, in singola copia, nella vostra fase principale, andrà a mettere KO, un character con costo pari a 6 o inferiore, permettendovi inoltre di aggiungere un don in campo in stato di attivo pronto per essere utilizzato come meglio crederete. Anche in questo caso ci sarà la presenza di un trigger, che vi permetterà di soddisfare appieno la seconda parte dell'effetto principale. Penultima fonte di ramp presente nel mazzo, questa carta sarà ottima se giocata in combinazione con Blast Breath, che potrà essere utilizzata subito dopo per vanificare un'offensiva rivale nei confronti vostri o dei personaggi che controllerete. E dopo aver conosciuto a fondo anche questo secondo compartimento, dove Bomber rappresenterà il quarto pilastro dell'intero deck, scopriamo il quinto punto forte, che pianterà a terra un'aggiuntiva gamba di appoggio utile per velocizzare ulteriormente l'accumulo di don sotto il vostro controllo. Onigashima Island si presenterà in quattro copie e sarà l'unica a rappresentare a pieno il reparto stage del deck. A costo 3, una volta giocata, potrà essere esaurita durante la vostra fase principale, per aggiungere un singolo don dalla riserva al campo in stato di esaurito, se il leader che possiederete avrà il tratto Animal Kingdom Pirates. Come già accennato, questo elemento sarà il quinto ed ultimo pilastro che velocizzerà l'accumulo di don. In più, cosa non da sottovalutare, l'isola per voi sarà la carta principale, che vi garantirà al 100% ogni turno l'aggiunta di risorse che verranno riportate in gioco dopo essere state riposte nella pila dedicata, a causa di effetti vari presenti sulle carte del deck. Quindi dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Dovrete bilanciare al meglio la presenza dei doni sul terreno, settandone quanti più possibili in gioco nel minor tempo possibile. Solo in questo modo potrete innescare l'abilità passiva del leader, creando non pochi problemi alle linee avversarie. Per la fase offensiva, la quasi totalità del deck si presterà allo scopo, possedendo ben 28 character che potranno naturalmente minacciare il leader più 4 personaggi, vedasi Sasaki, che attraverso l'assegnazione di un singolo don non solo avranno sufficiente forza per infastidire le vite rivali, ma innescheranno anche il loro effetto, agevolandovi nell'ottenimento di risorse che, di certo, vi torneranno più utili per la realizzazione della strategia dell'intero deck. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Unigashima, le Ain e i Sasaki, che vi daranno supporto sul lato don. Se poi saranno presenti anche a sostegno degli event, per mettere al sicuro i character appena menzionati, di certo la cosa non vi farà male. Anche festa potrà tornare utile, quindi non disdegnatelo se sarà presente tra le carte di prima mano, tutto il resto farà da contorno. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, ve la vedrete brutta contro tutti i mazzi di fascia alta, mentre contro deck, capitanati da Sanji, Magellan e anche al 40-60, la versione monocromatica di Croco, ve la batterete portandovi delle volte a casa l'incontro. Comunque non abbattetevi troppo, durante le varie fasi di test ho battuto persino un barba versione Strohat e uno Zoro, ma devo anche ammettere che a me è uscito di tutto, mentre ai miei avversari neanche una carta valida, quindi andrà molto a seconda della situazione che per il buon 80% dei casi andrà a favore di chi vi giocherà contro. C'è da dire che questo deck potrà svolgere una doppia funzione, impiegato in torneo per comprendere al meglio cosa aspetterà al nuovo giocatore una volta addentrato nelle dinamiche dei local, o come mazzo scuola, utilissimo ai proprietari delle fumetterie allo scopo di sostituire i demo, lasciando che il curioso esplori la maggior parte delle meccaniche che potrà trovare se sceglierà il viola come tonalità principale. Per la win condition la più tipica sarà Shiki, Otto più Don sul terreno e picchiare come Fabri, ma anche Bullet e Kaido torneranno più che utili allo scopo finale del match. Comunque non settatevi a livello mentale solo su questi tre personaggi. Il mazzo in questione avrà numerose fonti offensive, quindi sfruttatele tutte senza paura. Mentre gli event vedranno sette elementi che andranno a rafforzare i character o il leader sotto il vostro controllo o distruggerà, per quanto riguarda l'unico bracchio presente nel deck, delle risorse avversarie. In più per le stage avrete quattro copie di Onigashima che vi daranno una mano davvero importante per l'accumulo dei Don sotto il vostro controllo. Infine per la fase counter ci saranno 11 più 2000 con Fiesta, Sasaki e Drake più altri 16 più 1000 che vedranno i Gurashi, Uta, Queen e Shiki farne parte. Qui a differenza di altre profile ognuno darà il suo contributo, quindi destreggiarsi per bene nell'utilizzo dei valori di difesa sarà fondamentale per non sprecare risorse importantissime che torneranno utili allo svolgimento della strategia di gioco del deck. Nel mazzo saranno presenti 12 blocker, tra le quali fila compariranno alcuni elementi tra i più noti del gioco al momento, 11 personaggi con valore di counter pari a più 2000 e 16 con valore pari a più 1000, 7 counter che vi permetteranno di gestire al meglio l'accumulo di Don andando sia a rafforzare le linee di battaglia alleate che bersagliare quelli rivali con la presenza di uno degli stage di punta del colore viola a supporto, una fase offensiva molto aggressiva che vedrà la quasi totalità del deck svolgere il compito e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Cercate di partire sempre per primi soprattutto per impiegare la unica scima appena potrete. Questo deck avrà un buon fattore di recupero Don, quindi sfruttatelo al massimo per non perdervi neanche una singola risorsa per strada. Per quanto riguarda invece i Judgment of Hell, grandi esclusi della Profile, se vorrete utilizzarli potrete farlo magari intercambiandoli con i Blast, ma calcolate per bene in questo caso il fattore costo-beneficio che potrebbe penalizzarvi rallentando la curva di esecuzione dell'intero deck, ma provate comunque e traete da voi le conclusioni. Questo è un deck che personalmente ho trovato piuttosto interessante, per un semplice motivo. È economico, molto economico, calcolando che con l'acquisto di quattro starter, due Shanks e due Kaido, si avrà un buon 75-80% di lista completa, con le uniche eccezioni fatte per gli Yigurashi, i Sasaki, i Drake e i due Thunder Bagua, con il King Leader incluso, che potranno essere però reperiti a pochi euro attraverso il mercato secondario o direttamente dalle vostre fumetterie di fiducia. Con il braccio destro di Kaido di certo il divertimento sarà assicurato, soprattutto se vorrete sperimentare quello che è, in tutto e per tutto, un deck appartenente all'archetipo Ramp, ovvero accumulare molte risorse nel minor tempo possibile per trarne un vantaggio ai danni dell'avversario. E posso assicurarvi che, a forza di utilizzarlo, troverete in King un validissimo compagno di avventure con il quale salpare alla volta del grande tesoro lasciato in eredità dal leggendario Goldroger. E voi, vestirete i panni della superstar riducendo a pezzi la bordo avversaria attraverso il suo effetto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.